ci siamo comunque ci dobbiamo essere non sono lontani io furbamente l'avevo messo a una parte quindi re, che cazzo fai? i pezzi più grossi li sto facendo un cremare comunque è una crema allo stato puro cioè mamma mia che è l'oro uno viene nel mezzo conto ma sta schizzando un po' tutto mamma mia che buono voi non potete capire la bontà di questo gelato è il mio primo gelato non ci posso credere ok ma fermo un secondo così ma è che facciamo mentre girava attrezzavo le cose più più grossi ovviamente non vai ci siamo quasi manca un po' di zucchero però però ci siamo la mia cosa sta avvenendo speriamo deve essere non basta però ci ho messo un po' di casino perchè non perché se non non è un po' di soltanto non lo fa la casa non 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 che penso in mezzo siamo in 26 è sempre il titolo penso in mezzo si possa fare in mezzo bianzissimo mamma mia ora lo vado a frire anche a mia mamma che lavora ma qua non già lo fa no guarda che cazzo se me lo sto scopando ma se gli fa mamma non è vero non è vero non è vero non è vero il frattempo finisce finisco il tempo corto quando finisce mi lavo le mani e si stop finisco ora ci vanno non è vero ma non è vero non è vero ma non è vero benissimo benissimo non c'è la banana sti cazzo io lo faccio adesso così io non ho speso un solito ho speso nei minuti per voi non è vero non è vero ecco il giorno non l'ho mai fatto come cazzo come cazzo ci dovremmo essere allora lo giro manualmente chiudo la finestra vedete è un po' freddo almeno 20 ok i terzi grossi ancora non l'ho non bene aspetta bene allora un altro minutissimo è pronto un altro minutissimo è pronto è pronto con questo qua voglio che non la scelta non nulla e vanno bene l'interno qui sotto ci sta le frizze sono freddi ma non sono gacciati sono freddi quindi ci sono freddi proprio al passo delle minuti e così e così e così e così e così e così io e poi scriverei come ma mi lascio quello rottino a mangiare e non è facciamo l'assaggio allora prendiamo dei cucchiaini questo è il cucchiaino generale ok questa è la quantità il biscotto è saltato fuori ma chi se ne prega può farsi più grosso l'anima non ce ne prega niente comunque sta andando sotto ora vi spiego anche perchè ho messo i biscotti perchè praticamente i biscotti fanno più figo no sto scherzando le ho messi per magari pezzi più grosso l'anima ma quanto amo il gelato astag ho ancora quanto amo il gelato ecco questo è anche il babbo c'è più pezzi più grosso l'anima ok signori la ricetta è stata fatta madonna mi sta prendendo un ghiaccio mi piace la testa incredibile ah si è fermato se vi è piaciuto lasciate un mi piace in su che è sempre gratuito e non costa nulla mamma è arrivato nel momento giusto vuoi un bel gelato? un bel gelato? ciao ragazzi ciao